Vigile di festa al Centro Commerciale Archimede che domani sera si trasforma per l'occasione in un villaggio del divertimento. L'evento vede la partecipazione di attori, cantanti e musicisti per una serata tutta da gustare. Un nuovo evento che è quello relativo all'Eureka Music Village, che cos'è? I visitatori del Centro Commerciale hanno capito che il Centro Commerciale vuole essere un punto d'incontro, una piazza sociale pronta ad accogliere e a soddisfare le esigenze dei diversi visitatori. L'Eureka Music Village va proprio in questa direzione, verso quella che è la natura del Centro Commerciale. Sarà un contest musicale, anche se riduttivo, chiamarlo solo contest musicale, che vedrà alternarsi diversi artisti. Ne cito qualcuno, il comico Carlo Caneba, Andrea Barone, artisti emergenti, le Twin, la band Tributo I883. Per non dimenticare Silvia Salemi. È una delle prime novità, ce ne saranno tante altre. Si partirà alle 19, qui, presso il Centro Commerciale Archimede, via Necropoli del Fusco a Siracusa. Ci sarà anche un'interazione con il pubblico, a partire dalle ore 19 circa, quindi siete tutti invitati a essere presenti. Lei parlava di altri eventi, sorprese, non ci vuol dire qualcosa in particolare in più? Se svegliamo tutto adesso, le sorprese finiscono, però ci sono tante novità che bollono in pentola. Grazie. 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 Grazie.